Un nuovo stabilimento, 2600 metri quadrati adibiti a produzione, magazzino, ricerca e sviluppo, laboratori, sale e riunioni ed uffici. Sono stati presentati i lavori di edificazione della nuova sede di Visia Lab, realtà che opera nella progettazione e produzione di dispositivi medici per la diagnostica in vitro. Lo stabilimento verrà realizzato in circa 24-30 mesi dall'inizio dei lavori. Il progetto è stato depositato alcune settimane fa al Comune, quindi siamo in attesa dell'autorizzazione a edificare. Sarà uno stabilimento di 2600 metri quadrati che darà lavoro inizialmente a 50-55 dipendenti, con un piano di crescita che speriamo poi possa arrivare oltre le 70 unità. La nuova sede sorgerà nell'area che ospita l'ex mattatoio consortile del Comune di San Giovanni Valdarno, che sarà così riqualificata attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio in disuso ormai da anni, ma anche la sistemazione dell'area verde circostante per una superficie complessiva di due ettari. Nasce laddove vi era una proprietà pubblica, quindi comunale. L'area è stata venduta attraverso un'asta pubblica, è stata acquistata appunto da Visialab e poi realizzerà questo stabilimento. Per noi naturalmente è una bellissima notizia perché è uno stabilimento produttivo in un'area produttiva che naturalmente arricchisce un'area produttiva e va a riqualificare quest'area di San Giovanni Valdarno, è una notizia legata soprattutto al lavoro. Quindi si consolidano i due poli ad alta tecnologia, giunta a nord e a sud di San Giovanni. Direi che la sommatoria di queste due cose in questo momento è veramente una bella notizia per la vallata. Direi che comunque abbiamo un altro imprenditore, un'altra volta con coraggio, rilancia, in un momento anche così complesso. E' un bel momento da festeggiare.